Il Porto Spezzino è il secondo porto d'Italia per movimentazione merci, quali sono le prospettive per il 2024 e come si è chiuso il 2023? Il 2023 si dovrebbe chiudere con una flessione tra il 10 e il 12% rispetto al traffico contenitori. C'è stata una forte ripresa nel secondo semestre perché ricordiamoci come partirono i traffici nel mese di gennaio dove si registrò il minimo storico rispetto alla storia del termine. Quindi c'è stato questo recupero che porterà a chiudere l'anno con una flessione fisiologica e in linea con quella che è la flessione avvenuta anche in molti altri scali del territorio nazionale. Mentre per il 2024 le stime parlano di una crescita, quindi per arrivare a circa 700.000 unità, quindi ci sarà una crescita ulteriore, dovremmo arrivare attorno a dei volumi che erano quelli movimentati nel 2022. Certo che ci sono degli elementi di preoccupazione perché anche gli ultimi eventi che sono poi legati al conflitto nel Medio Oriente ci inducono ad avere degli elementi di preoccupazione, anche un rallentamento nell'arrivo delle navi ma soprattutto c'è un aumento dei costi di Nolo e c'è anche un aumento delle polizze assicurative e questo ovviamente rischia di scaricare poi sulla merce finale e sul consumatore. Assieme all'aspetto commerciale c'è anche il porto turistico, anche in questo senso ci sono importanti novità per il 2024. Sì, importanti novità perché prenderanno l'avvio i lavori per quanto riguarda la realizzazione della stazione croceristica quindi con il conseguente aumento a partire dal 2026 perché ricordiamoci questa è la scadenza dei lavori previsti perché ci sono fondi derivanti dal PNRR e quindi da quella data avremo l'aumento di arrivo dei passeggeri e conseguentemente auspicchiamo che ci sia la conseguente aumento per quanto riguarda i ristorni sulle attività commerciali e sulle attività ricettive.